Antipasto velocissimo, uova, tonno e maionese, che combo! Facciamo bollire 7 uova, si so che ne vedete 5 ma ne abbiamo aggiunte 2 perché avevamo fame. Tridiamo 50 g di olive e 10 g di capperi. Dopo 7 minuti le nostre uova saranno pronte. Facciamole raffreddare e poi priviamole del guscio. Trasferiamo le uova sul tagliere e tagliamole a metà. Separiamo gli albumi dai tuorli e utilizziamo questi ultimi per fare la nostra cremina. In una ciotola uniamo i tuorli, le olive e i capperi. Aggiungiamo poi 4 cucchiai di maionese, 2 di olio di oliva e 100 g di tonno. Mezzo mestolo d'acqua. Mettiamo il nostro composto in una sacca a poche. Riempiamo le uova. Noi abbiamo abbondato con il condimento. Un po' di prezzemolo tritato e saranno pronte. Se la ricetta vi è piaciuta mettete mi piace e... Seguiteci!